Mattia Gaddini ti chiedo innanzitutto che cosa ti porti dietro di questo 2022 che è terminato da poco. Per me diciamo che essere venuto qui è stata una grande fortuna, di questo ne parlo spesso con mio padre e penso che essere qua oggi per me sia una grande occasione. Purtroppo per ora non sono riuscito a sfruttarla al massimo a causa di questi due inconvenienti fisici che ho avuto però sono sicuro che ce la metterò tutta per il resto della stagione per sfruttarla al massimo. Infatti proprio di questo volevo chiederti quanto è stato difficile seguire la squadra da fuori in due periodi diversi mentre si stava sviluppando il campionato? È stato molto difficile, è stata una sofferenza, penso che sia la parola giusta. Purtroppo diciamo che in i periodi che sono stato fuori abbiamo avuto anche delle difficoltà e quindi star fuori a guardare, a dover soffrire, a dover insomma vedere tutto quello che succedeva senza poter fare niente, senza poter neanche essere in panchino o comunque vicino ai miei compagni per poter essere partecipi anche solo è stato veramente molto molto difficile. A proposito di difficoltà visto da fuori e poi vissute da dentro comunque che tipo di difficoltà ha avuto la squadra che è stata un po' sull'altalena nell'ultimo periodo? Sì, hai detto bene, è stato un periodo un po' altalenante. Penso che la difficoltà più grande non sia stata tecnica, tattica, penso che questi non siano i nostri problemi anche perché abbiamo chi ci dà ampio materiale per andare in campo a fare il nostro vero. Penso che sia stata più una cosa mentale, una cosa nostra e così mentale. Si parla tanto, ne parla anche il mister devo dire, in maniera molto diretta come è il suo costume della difficoltà della squadra a concretizzare la grande mole di gioco che costruisce. Per quella che è la tua esperienza, tu giochi davanti, c'è un modo, un sistema per allenarsi a segnare di più ed essere più concreti sotto porta? Penso che la soluzione più semplice sia quella di allenarsi in settimana anche nelle piccolezze, anche nelle cose più banali, ad essere cattivi sotto porta, a voler fare sempre gol, a voler determinare. Penso che questo ci possa aiutare poi la domenica a concretizzare tantissime occasioni che ci capitano perché abbiamo veramente tante occasioni, anche dal fuori si vede molto bene che creiamo tanto, quindi penso che in settimana dobbiamo essere più concreti e pensare di fare le cose come se fosse domenica. Uno degli argomenti più dibattuti in quest'ultimo periodo è quello degli esterni d'attacco che giocano a piedi invertiti, ti chiedo se tu ti trovi meglio in effetti a giocare a sinistra tu che sei un destro, così ci hai segnato per esempio il gol di Orvieto che è stato molto bello oppure potresti giocare anche a destra, da un punto di vista proprio di caratteristiche che tu e in campo. Ma io ti dico, io come preferenza preferisco giocare a sinistra perché posso entrare dentro col destro oppure diciamo che posso andare anche sul sinistro quindi mi sento più forte, mi sento più imprevedibile. In settimana il mister mi ha provato anche a destra e loro pensano che io ci posso giocare e io diciamo che cerco di dare il massimo anche lì ovviamente se dovessi essere usato a destra farei tutto il possibile per fare bene anche a destra. Penso di poterci giocare, sicuramente mi sento più a mio agio dall'altra parte però anche a destra penso che potrei dare il mio contributo. Ho cominciato l'intervista chiedendoti cosa ti porti dietro del 2022 e ti chiedo per chiudere che cosa ti aspetti dall'anno nuovo che è appena cominciato. Mi aspetto, più che mi aspetto spero, voglio, c'è la volontà di fare bene, di tornare a giocare con continuità e mi aspetto che questo campionato sia per noi continuo in un modo migliore possibile e mi aspetto, penso e il mio desiderio è di arrivare a vincere il campionato con questo gruppo. Grazie. 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 Grazie.